Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilberto. Per chi non mi conoscesse, sono un ragazzo di 22 anni, un laureando in economia e commercio, studio ancora perché nel frattempo lavoro anche, ho una società di consulenza e contabilità per l'azienda. Quindi appunto per chi non mi riconoscesse, ecco chi sono. Detto questo, oggi voglio fare un breve video in cui vi mostro quelle che sono le 10 posizioni su cui sto guadagnando di più, sia in percentuale sia in termini appunto di profit gain. Questo video qua sarà un video molto veloce, però penso che possa interessare a tutti. Allora, la prima società su cui sto guadagnando veramente tanto in percentuale è il mio, che per chi non la conoscesse, viene considerata un po' la Tesla cinese. Io ho un prezzo medio di acquisto a 3,59, l'ho preso veramente ad un prezzo secondo me regalato, infatti ora sta a 18,73, ma non ho intenzione assolutamente di venderla, a meno che appunto non cambino i fondamentali comunque, o non cambino le prospettive della società. Ora come ora io la ricomprerei anche, però prima di ricomprarla, perché ho intenzione di ricomprarla, voglio che almeno dimostrino di poter fare un trimestre in profitto. Non so se succederà quest'anno, non so se succederà il prossimo anno, ma sono ancora convinto che possa, anche nel breve tempo, fare un trimestre in profitto. La seconda società su cui sto guadagnando il 45% è Delta Lines, che ho comprato a 22, che secondo me era veramente stracciato come prezzo. Stessa cosa vale per Carnival, che ho preso a 12, cioè ok ragazzi che sia ieri sia le crociere sono dei rischi enormi in termini di possibilità semplice di lavorare, però a mio avviso a questi prezzi qua, alle quali le ho comprate, erano veramente un regalo. Ciò ho investito poco, cioè su Delta ho investito 270 dollari e su Carnival ho investito 140 praticamente, però a mio avviso erano veramente regalati. Erano le prime tre, ovvero Neo, Delta e Carnival, erano i tre rischi che mi ero voluto prendere durante il coronavirus e ora come ora stanno pagando tutte e tre. Detto questo, andiamo a vedere le altre società su cui sto guadagnando che però non erano comprese nei miei rischi, perché come vedete al quarto posto abbiamo Caterpillar, che per chi non lo conoscesse ma dubito che non conoscete Caterpillar, questo è il logo ma immagino che tutti conoscete Caterpillar. Anche essa le ho presa a un prezzo medio che era veramente bassissimo, Caterpillar l'ho presa a 108 e ora sta a 153, a mio avviso ora come ora è leggermente sopravvalutata, però non ho l'attenzione di venderla, perché? La mia idea è che con i tassi di interesse così bassi della Fed la gente inizierà a richiedere mutui su mutui su mutui per costruire case e se volete costruire case a chi vi affidate? A Caterpillar. Detto questo, un altro colpaccio che ho fatto è Nvidia, dove sto guadagnando il 39%, per chi non conoscesse Nvidia, è veramente il leader, il leader, il leader in assoluto nelle schede video, ma opera in tantissimi settori, che purtroppo adesso non posso stare qua a spiegarvi perché, e questo qua vuole essere un video breve. Io vi faccio vedere in breve appunto quali sono le esigenze su cui sto guadagnando di più, ma dateci un occhio perché Nvidia è un gioiello. Io attualmente ho lo 0,94 euro di un'azione, cioè per arrivare alla prima azione, ho un prezzo medio a 368 dollari e ora sta a 514. Non ho intenzione assolutamente di vendere Nvidia perché per me è il leader incontrastato. Poi, al sesto posto in termini di guadagno ho Stag Industrial, che è un rate, dove tra l'altro sto facendo il profitto di 35%, ma ricevo anche un dividendo, se non ricordo male. Andiamo a controllare, dicevo anche un dividendo bello alto, tipo del 4%, andiamo a controllare, se non ricordo male ricevo un dividendo del, eh, più del 4%, perché adesso è al 4,48, io l'ho presa a un poco meno del 35% in meno, quindi avrò un dividendo un pelo più alto. Detto questo, non ve la consegnerei a questi prezzi, però dateci comunque un'occhiata. Poi, come vi dico sempre, ho Apple, ho 4 azioni con un prezzo medio di 86, ma come ho già detto in diversi video, ora come ora la reputo sopravvalutata tantissimo Apple. La ricomprerei solo, e dico solo, se arrivasse a un prezzo inferiore al 90 dollari per azione, attualmente sta a 115. Attualmente sta a 115, quindi non ho assolutamente l'intenzione di rientrare, perché come potete vedere qua, io, secondo i miei calcoli, poi giusti o sbagliati che siano, questa è la mia visione, io la ricomprerei, vabbè, adesso qua sono stato un po' drastico, quindi un prezzo buono a cui la ricomprerei è 70 circa, però questo grafico qua non tiene conto del, dell'aumento esponenziale delle entrate. Da Apple Services e dai Wearables, quindi il resto della mia idea è che attualmente si è sopravvottata tantissimo, ma comunque un pensiero non arrivasse sotto i 95 potrei farcela. Dopo, le ultime due aziende su cui sto guadagnando percentualmente di più sono Realty Income, che per chi non la conoscesse anche sono Rate, che rilascia un dividendo mensile. Io l'ho comprata a un prezzo medio di carico di 50 dollari e attualmente sta a 65, quindi ok, grazie mille. E io, secondo i miei calcoli, è ancora buona da comprare. Detto questo, fate le vostre opportune valutazioni, io non voglio consigliarvi niente, fate le vostre valutazioni, io faccio le mie e siamo tutti felici. L'ultima azienda è Walt Disney, dove sto guadendo il 31%, questa, io ho un prezzo medio di carico a 100 dollari e il prezzo attualmente è a 131, ma attualmente io la percepisco un po' come sopravvalutata Disney, Quindi non ho intenzione di incrementare la mia posizione, dovesse riscendere intorno ai 100-110, potrei ricomprarlo. Non credo che nel breve periodo riscenda intorno a quel prezzo lì, però nel caso dovesse scendere potrei farci un pensierino. Detto questo, però andiamo a vedere quelle che mi hanno portato più profitto e non in termini percentuali, ma proprio in termini di valore. Andiamo a vedere quindi a ordinare le prime 10 per profitto in termini monetari e non percentuali. Come potete vedere al primo posto abbiamo NIO dove sto guadagnando il 317 dollari, contate che io di NIO, essendo un mio rischio, essendo che appunto rischiamo anche la bancarotta, diciamo che l'ha rischiata nel 2019, nel 2020, anche perché poi hanno iniziato a investirci colossi come Tencent, Alibaba e altri colossi cinesi, quindi diciamo che attualmente non rischia assolutamente. Però quindi come vedete ho visto poco, ho visto i 75 dollari che ai tempi era poco meno dell'1% di quello che investivo, non ho mai incrementato perché ho bisogno di avere più conferme dei bilanci e poi eventualmente reinvestirò, anche se alzerò di tanto il prezzo medio, ma a me non interessa. Comunque come vedete sto guadagnando 317 dollari, la seconda su cui sto guadagnando di più è Westrock, che è la mia più grande posizione in portafoglio dove sto guadagnando 900, dove sto guadagnando 190 dollari, ma che a mio avviso può tranquill... adesso sta a 34, io ho un prezzo medio di 27, ma... quindi fate le vostre valutazioni, ma a mio avviso è top. Poi ho Caterpillar dove sto guadagnando 183 dollari, Nvidia dove sto guadagnando 137 dollari, Data dove sto guadagnando 123 dollari, Hapu dove sto guadagnando 118 dollari, American Express dove sto guadagnando 90 dollari, e poi abbiamo JP Morgan dove sto guadagnando praticamente 80 dollari, Microsoft dove sto guadagnando 71 dollari, e poi come ultimo abbiamo Walt Disney dove stiamo guadagnando 62 dollari. Per chi se lo stesse chiedendo, attualmente ho in praticamente 5 mesi un profitto del 18,63% che annualizzato cosa sarà? Praticamente un 40%, si è praticamente un 44% annualizzato, non credo assolutamente che ad aprile prossimo sarà un 44% di profitto, perché attualmente gli mercati li vedo abbastanza sopravvalutati, detto questo penso comunque che arriverò al primo anno di investimenti, con un profitto di circa secondo me il 25%, che è ottimo, il mio obiettivo è di fare un profitto annuale di circa 10-15%, quindi abbiamo sicuramente messo una buonissima base. incrementerò le mie posizioni perché per chi non lo sapesse o anche vi faccio vedere leggermente come siamo messi, ho un'attenzione assolutamente di incrementare le mie posizioni Amazon e Alphabet, perché come vedete attualmente non sono né in top 10 dei miei investimenti, né Facebook né Amazon né Alphabet, ma sono le tre posizioni su cui voglio incrementare di più le posizioni, perché voglio che i tecnologici mi trascinino su, attualmente come potete vedere la mia location è al 19,9% tecnologica, ma voglio che arrivi almeno fino al 25% e poi si stabilizzi intorno a quella percentuale lì, perché questo è una breve spiegazione di come ho suddiviso il mio portafoglio. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ne vedete ragazzi, vediamo al prossimo video. Bella!